Ragazzi oggi col Marione vi portiamo in un posto speciale Oggi siamo ad Anversa degli Abruzza e le sorgenti del Cavuto Osi naturali, gole del Sagittario, andiamo Che spettacolo del ragazzino, ci giocavo sempre con questa fontana Questo è il sentiero 18 che porta a Castrovalva Chester Sauce, fabbrica, misto spezzi e sale Questo è veramente vietato fare il gioco, però per far mangiare Marione ho tenuto un permesso per usare un barbecue a batteria La griglia con la piastra di chisa Piastra di pezzi Costura perfetta Ragazzi, is a white Beh, come è va? Ciao ragazzi Ciao ragazzi